Raffaele Minchella, playmaker della Dynamic Venafro, per te un onore essere il capitano anche della squadra della tua città che quest'anno comunque sta disputando il campionato di Serie B. Sì, sicuramente è un onore rappresentare la mia squadra. Sono diversi anni ormai che faccio parte della prima squadra e ho trascorso tutte le scalate che ha fatto la nostra società, quindi partendo dalla C2, poi la C1 e ora la Serie B. Un progetto che si basa sulla continuità del Venafro, puntando su uno staff tecnico e su una squadra per l'appunto locale per portarvi proprio fino a calcare i parquet che contano. Sì, il progetto della società è molto interessante proprio per favorire la crescita dei giovani con l'innesto appunto di qualche senior esperto perché comunque abbiamo bisogno per far crescere i giovani, comunque c'è bisogno di qualcuno che ci fa da traino e quindi con dei ragazzi che vengono da fuori che ci danno una grossa mano a riguardo. Venendo proprio al campionato di Serie B, quest'anno è forse anche più difficile andarlo ad analizzare, dato che comunque qualche squadra si è iscritta e poi si è ritirata, vedi il Messina. Sì, è un campionato nuovo, un campionato dove noi non abbiamo l'esperienza giusta, però siamo molto motivati, è lo stesso, sappiamo che è un campionato difficile e diciamo che lo esploderemo giornata dopo giornata. Obiettivi della squadra? Quello della salvezza tranquilla e i tuoi personali invece? Allora, l'obiettivo personale è quello di dare sempre il massimo, di dare sempre un contributo per raggiungere il nostro obiettivo principale che è quello della salvezza.